Tutti a copertino per parlare dell'agenda del lavoro che considera il quadro strategico integrato delle iniziative che la Puglia intraprenderà nei prossimi anni per accrescere i tassi di occupazione, assicurare lavoro di qualità e nuove competenze, combattere le discriminazioni, accrescere la presenza di giovani e donne nel mondo del lavoro. E questo è l'intento dell'iniziativa organizzata dall'assessore Leo della Regione Puglia. E così, nel mondo del lavoro non sono due realtà distinte, sono due realtà che devono procedere insieme, domanda e offerta. Ecco perché l'università deve avere un ruolo fondamentale in questo percorso. E devo dire che in questa regione il sistema universitario si sta muovendo molto bene. Io sono estremamente fiducioso e momenti come questo ci aiutano sicuramente a fare il punto sulla situazione e definire le strategie per il futuro. Sì, noi dobbiamo condividere il futuro, questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro slogan. Dobbiamo assolutamente costruire percorsi partecipati, partecipati vuol dire andare anche nei luoghi, nei co-working, nelle factory, nelle aziende, nelle università, nelle scuole. Davvero andare in questi luoghi dove bisogna raccontare, prendere spunto e raccogliere le istanze legittime che arrivano dal territorio. Dobbiamo ovviamente cercare in tutti i modi di colmare i divari, i divari digitali, i divari sociali, i divari anche territoriali. Insomma dobbiamo cercare anche di costruire percorsi efficaci per il lavoro, per le tante persone disoccupate ma anche per gli occupati. Dobbiamo costruire una formazione, produrre una formazione che curvi verso il mondo del lavoro e che si avvicina al mondo del lavoro. Insomma dobbiamo fare davvero tanto, questo è il momento giusto, il tempo giusto e il PNRR ce lo chiede.